Ciao a tutti, vediamo in questo video 7 tecniche manipolative per influenzare le persone e ottenere tutto ciò che vuoi. In questo video voglio spiegarti 7 tecniche manipolative che vengono però spesso usate per poter influenzare le persone, sia singole ma talvolta anche le masse, per ottenere ciò che vuoi. Prima di affrontare il tema però ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo di seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonandoti potrai dare un sostegno al canale partecipando però attivamente alle live e potendo scrivere nelle chat e inoltre ti ricordo che potrai anche scegliere l'abbonamento seminario online e partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. E veniamo al tema 7 tecniche manipolative per influenzare le persone e ottenere tutto ciò che vuoi. Allora manipolare qualcuno cosa significa? Significa ottenere qualcosa diciamo che di sua iniziativa questa persona non farebbe. La manipolazione è considerata spesso e classificata come una tecnica malvagia, cattiva. Però diciamo che può essere vero ma tutta la comunicazione diciamo di massa spesso è manipolativa, la comunicazione politica è spesso manipolativa. Per cui se non altro è importante conoscere queste strategie, conoscere queste tecniche per eventualmente potersene difendere. però la manipolazione diciamo fa parte della vita, potremmo dire che quasi non è possibile evitare di manipolare. Quali sono queste queste tecniche? Beh la tecnica numero uno è quella di ottenere un piccolo favore da una persona. Nel momento in cui tu ottieni un favore da una persona automaticamente dentro questa persona scatterà scatterà un meccanismo del tipo se gli sto facendo un favore vuol dire che questa è una persona importante per me, vuol dire che è una persona degna. Ecco come indurre una persona a farti un favore anche piccolo? Beh ponendoti diciamo in una situazione diciamo di positività verso questa persona. Ad esempio salutandolo, salutandolo spesso ogni volta che lo vedi e poi gli puoi tranquillamente chiedere anche un favore. Non è importante, può essere un favore anche piccolo. Sono rimasto senza spiccioli, puoi offrirmi un caffè, un caffè, una qualunque cosa. Nel momento in cui questa persona fa qualcosa per te automaticamente tu cambierai alla sua vista, si creerà subito un feeling. Nella seduzione è anche utile utilizzare questa strategia. La tecnica numero due è quella che viene chiamata il piede nella porta. È diciamo è interessante perché è una tecnica dove tu puoi ottenere rapidamente diciamo dei risultati positivi. È qualcosa che tu ad esempio chiedi alla persona qualcosa di praticamente molto grande, forma una richiesta diciamo eccessiva esagerata e poi dopo forma una seconda richiesta normale e allora è probabile che la persona possa accettare. Ad esempio perché il primo rifiuto diciamo l'ha messa in una condizione di tensione. Ad esempio se chiedi a un tuo amico di prestarti la macchina per una settimana, beh magari ti dirà di no, però dopo insomma questo averti detto no li creerà un po' di tensione se c'è una connessione con questa persona. Per cui dirai, beh guarda però prestami 50 euro almeno che guarda sono proprio senza per fare il pieno di gasolio alla mia. Eh beh, ho 100 euro. È facile che te li presti proprio in funzione di quel no che hai detto prima. Quindi si chiede una cosa eccessiva per poi scendere. Il primo è proprio per becarsi un no. Ad esempio una donna appena conosciuta o che hai conosciuto da una tua amica così potresti chiedergli appunto fare un avance subito molto decisa per prenderti un rifiuto e poi dopo passare magari a tenerla per mano a fare qualcosa. Insomma nel momento in cui tu hai potenziale su quella persona il primo rifiuto serve soltanto per accedere al secondo livello. Il secondo sarà molto più probabilmente un sì perché gli hai già generato molta tensione nel diretti il primo no. Altra tecnica di manipolazione molto molto semplice è quello di utilizzare spesso il nome della persona. Sembrerà una cosa strana ma se tu usi spesso il nome della persona, chiami per nome, il nome rappresenta per noi è un ancoraggio emozionale molto positivo. Abbiamo molta più difficoltà poi a dire di no a persone che utilizzano spesso il nostro nome ed è veramente un qualcosa di semplice per avere ascendenti. Un'altra tecnica di manipolazione è quella dell'adulazione o dei complimenti. cioè fai tanti complimenti a una persona senza esagerare ma tu cerca veramente qualcosa di particolare in questa persona e fai un complimento su quello. Beh acquisirai comunque potenziale a livello logico e razionale e poi quando avrai bisogno di un favore di qualcosa da questa persona anche qua sarà molto molto più difficile che ti possa dire di no. Altra tecnica questa mediata della PNL, la quinta, molto interessante, è sempre il mirroring, cioè il rispecchiamento, ricalcare tra virgolette la gestualità di una persona, ricalcare gli stessi gesti, le stesse frasi, le stesse parole, il ritmo della respirazione, ricalcare diciamo la postura da un certo punto di vista. È molto importante questo perché crea un rapporto, un rapporto empatico positivo. È come se tu diventassi il suo alter ego, l'altro se stesso. E noi possiamo dire di no a tutti ma non possiamo dire di no a noi stessi. Ed ecco vediamo la sesta tecnica che è cosiddetta la porta al naso, che è quella opposta a quella del piede della porta. Anziché il piede della porta, vi ricordate, fate una richiesta molto alta e poi scendete. Invece in questo caso fate una prima richiesta per creare un truismo molto banale, molto semplice, la quale difficilmente potrà dire di no. Ma nel momento in cui voi ricevete il primo sì, avete creato una sorta di campo affermativo, per cui sarà poi difficile dire di no alla seconda richiesta un po' più, diciamo, un po' più importante. Questo è anche nella seduzione quello che viene fatto. Si parte gradualmente, se una oggi ti dà un bacio, domani il bacio è già scontato, ma ci potrà essere qualcosa in più, insomma. Quindi è la gradualità, è l'opposta dell'altra, ma è vero se il verso e l'inverso possono funzionare tranquillamente. E un'altra tecnica di manipolazione, l'ultima, la sette, potremmo definirla il silenzio è d'oro, perché è importante ascoltare le persone. Cioè nel momento in cui tu ascolti le persone, acquisisci potenziale e soprattutto acquisisci transfert. Loro tendono a trasferire su di te le loro, diciamo, le loro emozioni. Quindi tendono automaticamente a coinvolgersi. Come realizzare, diciamo, questa tecnica? Beh, parlando poco e ascoltando. Cercando di capire quello che dice e riassumendolo, quello che dice, trovare un punto in comune con quello che vuoi far fare e poi presentare anche, volendo, un'argomentazione che parta dal punto comune. Questo è molto importante. Ad esempio, nella seduzione, se una persona, ad esempio tu vuoi sedurla o comunque convincerla in qualche modo, è importante che la lasci parlare e qualunque cosa dica, magari facendo le domande giuste, potrà parlarti di un suo problema. E allora, devi trovare qualcosa di comune e guarda, questa cosa qua, penso esattamente allo stesso modo, anzi, bisognerebbe darsi più emozioni per poter raggiungere un risultato che si vuole. E questo è, diciamo, un modo per poter poi fare anche delle richieste successivamente. Fare delle domande è molto importante, è veramente molto importante perché se tu capisci la sua posizione e ti fai vedere che hai vissuto, hai avuto un vissuto simile, si creerà un ancoraggio emozionale molto forte. Ad esempio, se una persona ti parla che da bambino era stato bullizzato perché si è aperto, tu ricalcherai. Guarda, ti capisco perfettamente perché anche a me è successo una cosa del genere per dire, no? E gli racconti un altro episodio. Quindi cerchi di trovare un punto in comune e glielo rimandi. Ecco, questo creerà una connessione molto forte, ma puoi farlo anche nella seduzione. Nella seduzione una donna o un uomo ti racconta dei problemi vissuti col padre, tu dovrai presentargli un qualcosa di simile. Potrebbe essere con la madre, se vuoi farlo speculare, diciamo, invertendo i sessi. O anche col padre. L'importante è che si trovi un punto in comune e questo crea una connessione molto profonda per cui da quel momento in poi questa persona troverà molto più difficile poterti dire di no. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare o per dare un sostegno al canale, ma poter partecipare alle live chat. Oppure puoi scegliere anche il seminario online, in questo caso potrei partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!